Bene, buongiorno a tutti e a tutte, benvenute, grazie per aver accolto questo nostro invito a una presentazione che speriamo sia chiara, efficace e cercheremo di rimanere nei tempi che vi abbiamo proposto. Abbiamo la possibilità e abbiamo la fortuna di avere con noi l'assessore regionale agricoltura e paesaggio Mauro Felicori che invito da subito a dare un saluto per iniziare l'incontro. Grazie. Grazie a te Cristina, grazie a tutti per la partecipazione a questo webinar. Questo webinar è molto importante perché fa parte di uno stile che non è del tutto nuovo ma che stiamo molto incrementando. e l'idea che la regione non è solo una struttura, un ente che fissa indirissi, fa bandi da pagelle, da finanziamenti, ma è una tecnostruttura che accompagna le realtà del territorio, che vuole essere amiche del territorio, che ci metta al servizio del territorio e quindi vogliamo creare un'intimità fra noi e i musei in questo caso, ma anche le biblioteche in generale, il sistema dei beni culturali, e quindi vogliamo creare un'intimità nel progetto che ovviamente è facile a dirsi perché dobbiamo questo patrimonio difenderlo, salvaguardarlo, restaurarlo, ma se questo è abbastanza scontato non è scontato anche l'altro progetto che dobbiamo realizzare ed è di rendere questo patrimonio produttivo non solo e non tanto in termini economici anche perché abbiamo bisogno che questo patrimonio ci dia anche le risorse per continuare i restauri, la ricerca, la qualificazione professionale degli addetti e così via, ma soprattutto deve aumentare la produttività culturale e cioè noi dobbiamo essere in grado di aumentare il numero dei fruitori di questo patrimonio, il numero dei visitatori dei musei e ancora più difficile aumentare i contenuti che le persone che accettano il nostro invito a visitare i nostri musei, i contenuti che riportano da questa visita, cioè il fatto che queste visite siano produttive, feconde, istruttive e appaganti, cioè che i nostri visitatori escono con il desiderio di tornare in quel museo, di vedere altri musei e questo è il grande sogno degli operatori culturali e quindi è la missione che noi abbiamo di costruire pian piano un'Italia più istruita, diciamo in modo semplice, un'Italia più colta, più istruita e più conscia di quello che i millenni che stanno in nostre spalle ci hanno lasciato. Dunque, questo sta producendo un grande lavoro nel nostro Dipartimento dei beni culturali perché avete visto quanta formazione si fa, avete visto che ogni bando è accompagnato da webinar per far sì che venga sfruttato e utilizzato al meglio da tutte le realtà e questo è un fatto che vogliamo incrementare. Per entrare più nello specifico, quello che produciamo oggi è il segno di un ulteriore cambiamento che stiamo facendo, che riassumerei così, che il nostro indirizzo è di aumentare la dignità di tutto il mondo dei musei privati dentro il sistema museale. Cioè noi, sempre più, vogliamo riconoscere ai musei privati, siano essi di famiglie, di realtà religiose, di fondazioni, chiunque sia il soggetto non istituzionale, non governativo che gestisce questi musei, vogliamo riconoscere una pari dignità dentro il sistema museale e quindi è questo bando che viene presentato oggi dalle colleghe e la dimostrazione, noi stiamo aumentando le risorse per questo settore e stiamo anche aumentando le attenzioni a questo settore. Per cui la riunione di oggi, il webinar di oggi è molto importante proprio in questa chiave per rinsaldare le relazioni fra la nostra struttura, che essendo, diciamo, la struttura di una regione che è molto grande, perché insomma da Rimini a Piacenza saranno ben 250 chilometri di Appennino, di Pianura, insomma, stiamo parlando di una realtà molto importante, quindi rinsaldare i rapporti fra le istituzioni e anche il singolo museo privato è molto importante. Abbiamo condotto proprio in questo mandato questa felice esperienza delle case degli illustri. Noi sinceramente, è una legge che abbiamo fatto noi, quindi avevamo grandi aspettative che fosse una buona legge, ma è andata molto meglio di quanto non ci aspettassimo, ha messo in moto energia, ha suscitato entusiasmo, quindi anche il piccolo museo per noi è importante, è vitale e fa parte di un tessuto, e qui è il concetto ultimo che voglio dire, il concetto di rete, cioè noi dobbiamo, questo maggiore impegno che c'è da parte della regione, non deve servire a consolidare un sistema che resta uguale, ma dobbiamo, un po' come una specie di quarto stato dei musei, dobbiamo marciare insieme verso un sistema più compatto, più collegato, capace di condividere rete, progettualità, risorse, finanziamenti, idee, formazione delle persone, scambio anche di esperienze, questo per esempio mi piacerebbe che anche nel sito che abbiamo sul sistema regionale dei musei ci fosse più presente lo scambio di esperienze, perché sono certo che ci sono decine e decine di cose interessanti che meritano di essere meglio conosciute. Dunque, dentro questo concetto di rete, dentro questa ambizione di un sistema museale diciamo più dinamico e più capace di catturare l'attenzione della gran parte della popolazione, mi ha fatto piacere partecipare a questo webinar portando un saluto, non potrò stare fino alla fine, però intanto mi metto in attesa delle relazioni così imparo qualcosa anch'io che mi farà senz'altro bene. Grazie intanto e buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie, grazie Assessore, per noi è importante appunto anche in questi appuntamenti così che la comunità dei nostri istituti culturali possa vedere le persone che compongono le istituzioni a partire appunto dall'assessore e poi tutta la struttura tecnica. Quindi con me oggi ci sono Silvia Ferrari che è responsabile appunto del gruppo del sistema museale regionale e Chiara Casari che è la funzionaria responsabile del gruppo che segue tutta la parte amministrativa che ci permette appunto di attuare tutti gli strumenti secondo le leggi regionali per arrivare ad ampliare l'organizzazione museale comprendendo in essa appunto anche le vostre realtà che non afferiscono a soggetti pubblici. Io aggiungo solo poche parole prima di dare la parola appunto a Silvia e a Chiara ringrazio anche gli altri collaboratori e le altre collaboratrici che sono presenti e rendono possibile tutto quello che facciamo insieme a voi accompagnandovi e per voi in termini di proposte, di comunicazione di offerte formative, di consulenza, confronto chiamatela come volete e quindi anche Beatrice Orsini Marco Muzzioli, Barbara Fucci e non so se c'è collegato qualcun altro dei nostri. Io brevemente voglio introdurre soltanto una slide che credo possa esserci utile per inquadrare il nostro tema e la presentazione di questo avviso solo per dirvi che nell'ecosistema della nostra comunità che riguarda gli istituti culturali quindi comprendo biblioteche, archivi e musei i soggetti che afferiscono appunto strutture non pubbliche hanno questo rapporto soprattutto parlando dei musei rispetto a biblioteche e archivi vedete il numero di convenzioni che finora sono state attivate e quindi per il triennio appena scaduto sono in totale 56 con una presenza numerica dei musei che potete leggere di 19 rispetto a 37 biblioteche e archivi un altro dato che credo sia utile per tutti mettere a fuoco all'inizio di questo nostro incontro è quello legato appunto alle risorse investite negli ultimi due o tre anni e che vedete gradualmente anche se senza aumenti che ci fanno fare i salti di gioia ma c'è un incremento progressivo con un'attenzione proprio a dimostrazione del fatto che la regione intende organicamente inseriti nel sistema culturale soggetti che detengono, conservano e producono patrimonio culturale e lo gestiscono sia che siano, che afferiscano a diciamo soggetti pubblici che soggetti privati per cui questo significa che tutto ciò che la regione ha individuato e che cerca di attuare con il settore patrimonio culturale per far crescere questo sistema viene pensato e destinato in maniera assolutamente paritaria a tutti questi soggetti la distribuzione territoriale conosciuta finora e quindi mi riferisco ai dati a consuntivo del triennio 21-23 sono quelli che vedete abbiamo una presenza di qualche unità di soggetti convenzionati istituzioni museali nelle province con una distribuzione che è abbastanza limitata dalla nostra mappatura dal rapporto e dal nostro rapporto col territorio crediamo che in questa tornata per il triennio che si apre col 2024 in realtà ci possano essere delle nuove situazioni dei nuovi contesti delle nuove strutture che si affacciano a questa proposta all'avviso per ampliare l'organizzazione museale e questo ci fa molto piacere anche perché significa che il territorio è molto vivace è portatore di patrimoni molto significativi e sono patrimoni che ancora per tutte le comunità rappresentano aspetti molto importanti in un'ottica identitaria che non è statica ma assolutamente risponde a quell'esigenza di trasformazione di innovazione che le comunità ci fanno percepire voglio solo mettere a fuoco alcuni punti perché poi con Silvia e con Chiara sicuramente ci sarà una disamina attenta puntuale schematica per presentarvi al meglio le caratteristiche di questo avviso per fare in modo che voi possiate candidarvi in maniera rispondente ed efficace allora l'assessore ha fatto riferimento anche a una particolare attenzione che il settore ha messo in questi anni sulla scia di quanto già faceva l'Ibc sul tema della formazione della competenza della professionalità con cui i servizi museali devono presentarsi al pubblico su alcuni temi fondamentali che sono quelli dell'accessibilità del benessere che passa anche attraverso esperienze coinvolgenti attrattive ma soprattutto arricchenti da un punto di vista culturale ma anche sociale e anche aggregativo tema dell'accessibilità tema dell'innovazione quindi innovazione digitale e non è un caso che il nostro settore per volontà appunto del nostro assessorato sia entrato dalla porta principale anche nel mondo degli avvisi dei bandi della programmazione regionale FESRA 21-27 e l'esito importante pubblicato di recente rispetto al bando delle digital humanities ci dice ancora una volta che il patrimonio culturale è di tutti e gli soggetti privati si sono affermati come soggetti beneficiari quindi pronti ad accendere i motori per avviare i progetti candidati e ammessi in misura in percentuale quasi al pari con i soggetti pubblici allora i progetti i bandi europei sono bandi impegnativi bandi da cui dipendono però possibilità di accedere a risorse importanti che possono dare continuità e migliorare effettivamente anche in termini strutturali organizzativi e di visione il servizio culturale che voi vendete e che fa parte della vostra mission ma questo impone da parte nostra ci lo sentiamo con forte responsabilità per il senso di accompagnamento che il servizio regionale intende e deve svolgere nei confronti del territorio sentiamo la responsabilità di accompagnarli anche a una crescita nella qualità della presentazione appunto dei programmi triennali da candidare per le convenzioni questo per imparare sempre di più per allenarci insomma a essere pronti ad accedere a questi fondi perché abituati a ragionare in termini di apertura sovralocale di rete di messa a disposizione delle proprie competenze a integrazione di quelle di altri e per ampliare sempre di più la visione appunto che secondo noi i musei sono chiamati ad avere e a dare in questa fase storica di grande trasformazione è per questo che troverete nelle parole di Silvia e di Chiara molta attenzione ad approfondire la conoscenza delle vostre caratteristiche ma anche molta attenzione a chiedere in maniera sempre chiaramente portata a voler includere il più possibile le esperienze regionali a chiedervi una certa precisione nella stesura delle domande una chiarezza e una diciamo formulazione del modulo di candidatura al programma triennale che sia effettivamente rispondente alle finalità del nostro avviso questo è importante perché imparare a elaborare progetti in modo efficace e pertinente imparare a rendicontare in modo che è sempre più ormai richiesto obbligatoriamente dalle direttive europee ci fa entrare in maniera concreta e con chiaramente maggiori possibilità di sviluppo in una logica che è quella dei prossimi anni quindi noi ci siamo siamo assolutamente disponibili con tutte le forme che conosciamo anche questo webinar viene registrato quindi viene messo a disposizione sapete che avete sempre comunque degli indirizzi mail a cui potete scrivere raccogliamo in chat dei quesiti alcuni li abbiamo già ricevuti e vi ringraziamo per averceli fatti per venire anticipatamente in modo tale che abbiamo cercato di costruire anche questo incontro per rispondere in maniera più efficace alle vostre domande e niente io vi ringrazio per la partecipazione numerosa che non ci stupisce anzi ci fa molto piacere e lascio la parola a Silvia grazie Cristina mi unisco intanto ai ringraziamenti a tutti i colleghi all'assessore per il suo saluto e a tutti i partecipanti intanto condivido le mie slide e spero vediate benissimo in modalità presentazione ecco qui veniamo quindi a illustrare la struttura e i contenuti di questo avviso che è proprio destinato all'ampliamento dell'organizzazione museale regionale e consiste nella richiesta di convenzione con la regione Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026 da parte dei musei privati dunque innanzitutto come i due primi interventi di questa giornata hanno sottolineato si tratta di fare un percorso di qualificazione e di miglioramento stiamo cercando di fare un salto di qualità insieme ai nostri musei e quest'anno l'avviso presenta gli elementi di novità un po' anche in linea con quanto è stato fatto nel parallelo avviso per le biblioteche e gli archivi intanto la normativa di riferimento rimane la stessa cioè la legge regionale 18-2000 norme in materia di biblioteche archivi storici musei beni culturali dove all'articolo 6 si citano le funzioni della regione che può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e private e poi l'articolo 14 cita l'organizzazione museale regionale costituita da musei da siti oggetti di rilevanza monumentale artistica archeologica raccolte di interesse artistico storico tecnico scientifico archeologico e così via gli altri riferimenti normativi continuano a rimanere la delibera legislativa 41 del 2015 dove si fa riferimento alle linee triennali quindi agli obiettivi e le azioni prioritarie messe in campo in realtà sono le azioni prioritarie del triennio 2015 2017 che è stato fino ad oggi rinnovato quindi le linee triennali sono ancora quelle di questa delibera anche se è in corso di aggiornamento il documento per le linee triennali nuove del 2024 e 2026 e soprattutto il decreto ministeriale numero 113 2018 del ministero della cultura con cui si adottano per la prima volta a livello nazionale i livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura e l'attivazione del sistema museale nazionale questo per noi è stato è rappresenta ancora un punto di riferimento fondamentale perché l'adozione dei livelli uniformi di qualità da parte della giunta regionale della regione Emilia Romagna nel 2018 con la delibera 1450 si avvia regionalmente il sistema museale e si adotta il documento dei livelli uniformi di qualità proprio come orientamento per il lavoro insieme ai musei il documento dei livelli uniformi di qualità si basa appunto su una serie molto consistente ricca di criteri tecnico-scientifici con cui il ministero grazie alla collaborazione di gruppo di lavoro e con il coordinamento delle regioni stabilisce quali sono i livelli minimi di qualità per l'offerta culturale e anche per la struttura organizzativa dei musei dei luoghi della cultura così come regola i rapporti col territorio e regola gli standard per le collezioni e anche i cosiddetti obiettivi di miglioramento quindi è un documento che noi abbiamo deciso di adottare in parallelo con quelle che sono le finestre di accreditamento quindi per il riconoscimento a livello ragionale e automaticamente a livello nazionale dell'accreditamento al sistema museale nazionale e dicevo abbiamo adottato questo strumento proprio per orientare il nostro lavoro lavoro più ampio anche insieme ai musei che come sapete tutti verte non soltanto sull'accreditamento quindi sul riconoscimento di questa certificazione di qualità ma soprattutto su percorsi di accompagnamento percorsi di formazione incontri scambi di buone pratiche condivisione di idee di risorse e soprattutto individuare quelli che sono gli obiettivi le linee guida su cui lavorare da qui al futuro quindi tenere vivo il dialogo anche con il contesto internazionale in campo museale veniamo direttamente perché questa premessa perché l'elemento di novità più importante è stato l'introduzione di due linee di intervento nel nostro bando allora due distinte linee di intervento una è rivolta ai soggetti privati che sono titolari di istituti culturali quindi che conservano beni patrimoni culturali di rilevanza regionale accreditati al sistema museale nazionale cioè i musei luoghi della cultura le case e studi delle persone illustri della regione Emilia-Romagna però quelle riconosciute ai sensi della legge regionale 2 2022 accreditati al sistema museale nazionale cioè che hanno ricevuto questo riconoscimento che avviene sulla base regionale poi automaticamente sulla base dell'articolo 4 del decreto ministeriale 113 2018 citato in precedenza sancisce la seconda linea di intervento invece riguarda quei soggetti privati titolari di beni e patrimoni culturali di rilevanza regionale non accreditati al sistema museale nazionale quindi musei raccolte museali luoghi della cultura case studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna sostanzialmente si tratta di due linee di intervento la prima delle quali come potete immaginare è rivolta a dei soggetti consolidati con una struttura e con dei livelli di qualità del servizio molto ben consolidati e strutturati e che hanno appunto ricevuto a livello nazionale questo riconoscimento di musei accreditati e la seconda linea di intervento invece è più rivolta a quegli istituti privati con servizi di qualità meno uniformi ma comunque in possesso di una serie di attività di valorizzazione educativa di promozione di studio di ricerca sui loro patrimoni tali da rendere comunque la loro attività rilevante a livello regionale e significativa per l'incremento della comunità museale del nostro territorio per entrambe le linee di intervento ovviamente i soggetti devono possedere una serie di requisiti per poter fare domanda requisiti senza i quali non è possibile accettare la domanda di 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 bando allora innanzitutto l'assenza di lucro che deve essere accertata attraverso la consegna dello statuto dell'atto costitutivo la sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna anche chi ha più di una sede l'importante è che almeno una sede operativa sia nel territorio dell'Emilia-Romagna bisogna avere la proprietà delle collezioni o del patrimonio o la sua loro disponibilità sulla base di accordi scritti questo cosa significa che anche nel caso in cui soggetti gestori di un museo di un patrimonio e che sono privati ma sulla base di accordi scritti hanno la gestione di patrimoni altrui possono partecipare purché ovviamente siano in possesso di accordi scritti che regola questo tipo di gestione inoltre gli istituti musei luoghi della cultura devono essere costituiti e operare con continuità nell'ambito museale ovviamente da almeno cinque anni per la linea di intervento uno quindi musei luoghi della cultura accreditati oppure da almeno tre anni per la linea di intervento due cioè luoghi della cultura non accreditati c'è poi la questione della non compatibilità con altre convenzioni in corso di validità con la regione Emilia-Romagna per lo stesso programma o periodo ad esclusione dell'adesione e quindi della possibilità di essere di recepire dei contributi sulla base della bando reti e sistemi ai sensi della legge 18 sapete che abbiamo appena concluso e sono in corso i lavori di ammissibilità formale per il bando reti ecco chi è parte è assegnatario di un contributo eventuale sul bando reti può comunque cioè questa situazione è compatibile anche con la richiesta di convenzione con la regione Emilia-Romagna infine non bisogna essere soggetti controllati o partecipati dalla regione Emilia-Romagna veniamo ai requisiti oggettivi cioè i requisiti che è necessario avere in possesso al momento dell'uscita del bando per poter partecipare a fare domanda allora per la linea 1 per i soggetti accreditati al sistema museale nazionale è sufficiente essere accreditati in una delle tre finestre che abbiamo aperto col sistema museale regionale nel 2021 2022 e 2023 e quindi avere la certificazione dell'accreditamento ricordiamo che per chi si è accreditato nel 2021 poi con l'ufficialità ovviamente nel 2022 la durata dell'accreditamento sapete bene che è triennale quindi l'accreditamento quindi il titolo di riconoscimento di museo accreditato luogo di cultura accreditato va mantenuto per tutta la durata della convenzione in corso con la regione eventualmente in corso con la regione per la linea di intervento 2 cioè per la linea che è rivolta ai musei luoghi della cultura raccolte museali non accreditati che non hanno quindi tutti i requisiti di qualità è però richiesto di possedere una base di standard minimi piuttosto consistente e qui è una delle novità che abbiamo introdotto che vuole essere un po' di stimolo a continuare il percorso di acquisizione di sempre maggiori standard di qualità nell'offerta dei servizi con l'obiettivo magari in futuro di arrivare all'accreditamento vero e proprio questi requisiti sono elencati nella slide che vedete e riguardano l'avere lo statuto o un regolamento e l'essere dotati di un documento economico finanziario sostanzialmente il bilancio garantire l'accesso alle persone con disabilità alle strutture museali o essere in possesso di deroga per dimostrata impossibilità tecnica o vincolo di tutela quindi entra consistentemente il tema dell'accessibilità che sapete è un percorso su cui il nostro sistema museale regionale da alcuni anni porta avanti con decisione percorso di sensibilizzazione bisogna essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza per le strutture le persone e le opere riguardo l'apertura al pubblico è richiesta la garanzia dell'apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanale oppure nei casi delle aperture dei musei che osservano un'apertura stagionale l'apertura almeno 60 giorni all'anno e in entrambi i casi garantire l'apertura su richiesta e per notazione per visite guidate a gruppi o a scuole inoltre deve essere garantita la registrazione puntuale degli ingressi quindi la contabilizzazione possibilmente anche la differenziazione dei pubblici ma quantomeno la registrazione degli ingressi va garantita bisogna essere in possesso di alcune figure fondamentali per la conduzione di un museo luogo della cultura quindi la figura del direttore con una specifica competenza è un'esperienza professionale anche eventualmente in condivisione con altri istituti culturali di cui l'idea della rete potrebbe agevolare questa operazione insomma questo standard non sempre garantito e nello stesso modo garantire in modo adeguato e continuativo le funzioni della figura del conservatore e della sorveglianza del patrimonio culturale bisogna avere un sito internet autonomo oppure una pagina web però aggiornate con le attività del museo del luogo della cultura avere un piano annuale delle attività e un programma annuale di attività educative o di promozione del patrimonio è necessario avere un inventario patrimoniale dei beni conservati è necessario dimostrare di svolgere attività di studio e ricerca scientifica sulle collezioni è necessario avere del materiale informativo all'interno del museo e disponibile per il pubblico è necessario qui si apre il tema del rapporto con gli stakeholder e con il territorio promuovere un contatto costante con i contesti storico-culturali e territoriali in cui il luogo della cultura o il museo appartiene ecco tutti questi requisiti devono essere posseduti dal soggetto che intende presentare domanda alla data di pubblicazione di questo avviso e ricordiamo qualunque variazione perché sappiamo che le situazioni dei musei spesso sono in grande movimento anche a seconda di come cambiano le sorti ai vertici dei nostri dei nostri musei qualunque variazione rispetto ai requisiti va immediatamente comunicata e perché la commissione deve fare delle opportune valutazioni veniamo adesso alla che cosa è possibile presentare nella domanda naturalmente stiamo parlando di programmi triennali qui per entrambe le linee di intervento si deve presentare con l'apposito allegato dei programmi di attività triennali che devono essere devono essere coerenti con le linee triennali che vi ho citato prima che sono qui riassunte della deribera dell'assemblea legislativa 41 2015 e punti 2.1 2.2 e 2.3 quindi nuovi servizi allestimenti dotazioni tecnologiche degli istituti culturali o dei musei sistemi informativi catalogazione conservazione e restauro e formazione progetti attività di valorizzazione di beni raccolte e istituti culturali qui poi ci sono gli allegati che troverete scaricabili dal sito dal link che abbiamo indicato all'inizio e ve lo ricorderemo anche dopo in base agli allegati bisogna scegliere obbligatoriamente una delle due linee di intervento a seconda appunto del soggetto richiedente istruttoria e valutazione delle domande allora l'istruttoria dopo veniamo un po' a vedere che cosa verrà valutato e tutti gli altri aspetti però l'iter è passare da una istruttoria formale di ammissibilità formale che è nominata da un gruppo interno alla nostra regione e che si occuperà di verificare la sossistenza e le condizioni soggettive di chi fa la domanda quindi la rispondenza al progetto ai vincoli formali dell'avviso la regolare presentazione della documentazione la completezza della documentazione dopo di che c'è una valutazione di merito con una commissione che può essere composta da elementi interni anche esterni alla regione che sulla base di alcuni criteri che vedremo subito dopo farà una valutazione sulla proposta progettuale e indicherà quella che è la spesa ammissibile e farà una graduatoria diciamo di quelli dei soggetti ammessi o non ammessi e inoltre deciderà il contributo poi c'è l'iter della concessione con la delibera di giunta di approvazione la determina di concessione del contributo e che saranno poi delle fasi successive ricordiamo che è fondamentale stare molto attenti a non commettere errori in fase di invio della domanda che devono essere le domande devono essere trasmette trasmesse esclusivamente tramite PEC perché errori compiuti in quella fase potrebbero compromettere la missione l'ammissibilità delle domande quindi non saranno ammesse le domande non trasmesse tramite via PEC non saranno ammesse le domande presentate da soggetti che non sono coerenti con i requisiti soggettivi di cui al punto 1 o per programmi che non risultano conformi al punto 2 o mancanti della documentazione obbligatoria di cui al punto 6 oppure trasmesse oltre il termine di cui al punto sempre 6 ricordiamo che la documentazione che non risulta completa no scusate nel caso in cui la documentazione non risulti completa è possibile regolarizzarla mentre l'integrazione è ammessa soltanto per i documenti che non sono richiesti appena di esclusione quindi ci sono dei documenti appena di esclusione la mancanza dei quali comporta l'esclusione dal bando ci sono delle documentazioni che potrebbero non essere regolari per cui è possibile regolarizzare veniamo ai criteri indicatori allora per quanto riguarda la linea di intervento 1 e quindi qui ci rivolgiamo di nuovo ai musei accreditati musei istituti della cultura accreditati verrà valutata con un punteggio di 50 punti la rilevanza e la qualità complessiva del programma di attività cioè che cosa andremo a guardare si guarderà la rilevanza territoriale si guarderà l'attinenza tra il bisogno e l'attività proposta la chiarezza della proposta progettuale la completezza sia nella descrizione delle attività che nel piano dei costi guarderemo lo sviluppo e il miglioramento delle buone pratiche nel contesto culturale e museale guarderemo in particolare anche quei temi che sono un po' le linee direttive che sono state citate da Cristina Ambrosini nella sua introduzione i temi dell'accessibilità e dell'inclusione sociale per esempio la coerenza del cronoprogramma e la congruenza delle attività dei costi poi guarderemo con particolare attenzione le attività riferite agli obiettivi di miglioramento dei look quindi cosa significa che i musei che partecipano per la linea di intervento 1 hanno già degli standard minimi di elevatissima qualità ma c'è tutta la parte degli obiettivi di miglioramento che possono essere incrementati anche grazie a delle attività per i quali il contributo regionale può avere un significativo miglioramento quindi in particolare per esempio pensiamo all'aggiornamento e all'incremento delle raccolte la digitalizzazione e l'automazione per esempio dei sistemi di monitoraggio conservativo del patrimonio l'incremento delle attività didattiche innovative rivolte a diverse fasce di pubblico le lavorazioni del documento di analisi e valutazione dei rischi per l'emergenza del patrimonio le iniziative anche singole di rilevanza regionale i report sull'analisi di impatto la partecipazione a progetti di rete inoltre alcuni temi citati precedentemente che sono cari alle nostre politiche culturali quindi l'aderenza delle attività ai principi di sostenibilità sociale ambientale ed economica un percorso che abbiamo avviato abbiamo appena avviato e che continueremo in maniera sempre più consistente nei prossimi mesi l'innovazione tecnologica applicata alla gestione o alla valorizzazione del patrimonio così come la capacità del programma di svilupparsi in modalità di sistema è in rapporto col territorio quindi qui di nuovo si guarda l'importanza del fare rete è sempre poi un discorso portato avanti nell'ottica della sostenibilità economica quindi la capacità di aggregare di mettersi in rete di condividere le esperienze sul territorio con diversi istituti culturali o con altre realtà territoriali per invece passiamo alla linea di intervento 2 dimenticavo di sottolineare che il punteggio massimo totale raggiunto è 100 quindi singoli parziali sono i massimi punteggi assegnati ad ognuna delle voci che vi sto elencando di nuovo nella linea di intervento 2 abbiamo un primo criterio che si ripete come per la linea di intervento 1 quindi la rilevanza e la qualità complessiva del programma di attività con le stesse caratteristiche della linea 1 in secondo luogo la capacità delle attività programmate di incrementare il raggiungimento degli standard minimi di qualità dei look cioè per i musei non accreditati sia quelli che hanno tentato l'accreditamento nelle tre finestre passate ma anche quelli che non si sono mai avvicinati né affacciati al tema degli standard minimi noi guarderemo e assegneremo un punteggio massimo di 25 punti a quei programmi triennali che fanno emergere la capacità di andare ad acquisire e migliorare gli standard minimi di qualità quindi è un tema di incremento della qualità dei musei e della acquisizione degli standard minimi poi di nuovo i punti che abbiamo citato prima quindi il tema come entra la sostenibilità sociale ambientale ed economica nelle attività proposte come entra e come viene impiegata l'innovazione tecnologica applicata alla gestione alla valorizzazione del patrimonio e come l'attività o l'ente è in grado di inserire le proprie attività e il programma triennale in un'ottica di sistema e di rapporti con il territorio quindi una qualità di aggregazione di cooperazione territoriale anche qui punteggio massimo 100 e veniamo a come presentare la domanda allora innanzitutto sul sito del settore patrimonio culturale nel menu avvisi e bandi e vedete il link nella parte di destra sulle info potete scaricare l'avviso con tutti gli allegati necessari da compilare bisogna scegliere dall'allegato A2 o la linea 1 allegato A2A o la linea 2 allegato A2B la linea di intervento a seconda del tipo di soggetto proponente bisogna poi allegare i documenti obbligatori il programma di attività allegato 3 e il piano dei costi questi sono documenti obbligatori la mancanza comporta l'esclusione dalla missibilità formale quindi lo statuto o atto costitutivo dell'ente proponente il bilancio di previsione per la sola linea 2 un questionario standard che troverete da scaricare per gli standard minimi degli istituti culturali che vanno a dare una lettura un po' più complessiva un po' più ampia della situazione dei musei privati che non sono accreditati mentre per i musei accreditati la situazione la conosciamo bene perché hanno già partecipato nelle finestre precedenti all'accreditamento quindi le istruttorie sono già state fatte sono già stati valutati per chi si affaccia per la prima volta e partecipa alla linea 2 è obbligatorio compilare questo standard se previsto la dichiarazione sostitutiva come d'articolo 6 del decreto legislativo 78 2010 va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo patrimonio culturale chiocciola postacert punto regione punto emilia trattinoromagna punto it le domande devono essere firmate dal legale rappresentante o da persona formalmente delegata con invio di delega scritta si prevede la firma digitale o anche la firma analogica un po' di tempistiche allora il termine per la presentazione della domanda è il 15 luglio 2024 ore 16 vi consigliamo di non aspettare l'ultimo momento per per l'invio perché dopo in caso di mancata connessione problemi al vostro PC o problemi di sistema non è poi possibile ovviare alla diciamo alla mancata al mancato invio entro il termine di presentazione della domanda che è che è quello insomma 15 luglio ore 16 altre scadenze altre tempistiche riguardano la scadenza delle convenzioni quindi una volta che diciamo si è selezionati e viene assegnato il contributo e la convenzione ci sono le scadenze delle convenzioni che terminano il 31 dicembre 2026 nel 2024 le spese ammissibili sono a partire dal primo di gennaio e la richiesta di erogazione di contributo va fatta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della rendicontazione ma per tutta la parte di spese ammissibili e parti amministrative e contabili dopo la mia collega Chiara Casari vi illustrerà nei dettagli quanto è possibile ottenere con la domanda quindi l'intensità del contributo per la linea di intervento numero uno quindi musei istituti culturali accreditati al sistema museale nazionale la soglia minima annuale del costo del progetto si attesta sui 10.000 euro la percentuale massima del contributo che si può concedere a una copertura dell'80% del contributo delle spese ammissibili e la soglia massima del contributo annuale è di 40.000 euro il contributo poi sarà suddiviso in tre annualità di finanziamento 2024 2025 2006 anche qui vi ricordiamo di prestare molta attenzione ai punti 5.2 e 5.3 dell'avviso dove tutti questi dati sono citati stessa cosa per la linea di intervento 2 da controllare i punti 5.2 e 5.3 dell'avviso la linea di intervento 2 che abbiamo detto è riservata ai musei non accreditati musei e luoghi della cultura non accreditati quindi è prevista una soglia minima annuale inferiore che si attesta ai 3.000 euro sempre con una percentuale massima del contributo di copertura dell'80% e una soglia massima del contributo annuale di 20.000 euro quindi vuole dire che nell'annualità diciamo complessivamente si va da un minimo di 9.000 euro a un massimo di 60.000 euro e invece per la linea 1 da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 120.000 euro chiudiamo qui ricordandovi che da questo link sono scaricabili tutti i documenti e gli allegati per presentare la domanda i riferimenti la responsabile del procedimento è Cristina Ambrosini le referenti siamo Chiara Casari e la sottoscritta per qualunque richiesta di informazione potete rivolgervi sia a noi come funzionari ma anche scrivendo una mail alla casala di posta elettronica del sistema museale regionale chiocciolaregione punto emilia trattinoromagna punto it e io mi fermo qui naturalmente adesso passo la parola a Chiara Casari che tanto ringrazio insieme a tutto il suo staff e ringrazio anche tutto lo staff del sistema museale per l'impegno anche in tempi così impegnativi e ricchi di scadenze per tutto l'impegno profuso in questo tipo di attività direi che già in questa prima fase possiamo dare seguito alla lettura di eventuali domande che siano pervenute e cominciare a dare le prime risposte intanto vi ringrazio e a dopo grazie Silvia io in chat non vedo domande al momento Barbara confermi ecco il primo quesito Gianmarco Passerini al punto 4.2 del bando spese generali vengono indicate anche consulenze e collaborazioni esterne domanda le traduzioni l'IS il service audio video le spese di comunicazione tipografia web gli ospiti scienziati scrittori sono da ricondurre sotto queste voci osservatorio astronomico Cristina ti vuole Cristina io adesso relazionerò anche sulle spese ammissibili e non ammissibili quindi penso toccheremo l'argomento a te la parola grazie grazie mille buongiorno a tutte e a tutti vedete le slide della mia presentazione sì ricordo appunto che potete se avete delle domande inserirle in chat cercheremo di rispondere a tutte a quelle più puntuali magari che riguardano casi particolari eventualmente ci riserviamo di rispondere poi via mail cercheremo di rispondere anche ad alcuni quesiti che sono pervenuti via mail nei giorni scorsi e ovviamente sperando che siano quesiti che interessano un po' tutti allora la mia presentazione riguarda due argomenti appunto più amministrativi che sono le spese ammissibili non ammissibili e le modalità di rendicontazione ovviamente ci tengo a fare come dire un punto introduttivo rispetto a questo tema ed è il tema della coerenza generale del programma di attività che tutti i soggetti proponenti andranno a presentare cosa voglio dire mi specifico meglio cioè questa parola coerenza il termine coerenza è un termine secondo me essenziale importantissimo che deve essere tenuto in considerazione in tutte le fasi diciamo di gestione del progetto dalla sua preparazione ed azione fino la realizzazione ovviamente fino alla fase finale che è quella appunto della rendicontazione questo perché i profili culturali cioè il merito quello che ogni soggetto che si convenzionerà con la regione andrà a fare non può non non intersecare non tenere conto anche degli aspetti amministrativi e contabili e questo sia nel momento in cui si crea una proposta e quindi si pensa un programma di attività si deve anche sempre tenere conto degli aspetti contabili economico finanziari del progetto e ci deve essere una stretta evidente chiara correlazione fra l'uno e l'altro e la stessa cosa di conseguenza deve avvenire dovrà avvenire in fase di rendicontazione cioè nella rendicontazione ci aspettiamo che alla descrizione della realizzazione di merito del progetto vada di pari passo con una spesa coerente con quello che è descritto appunto nella relazione illustrativa approfondirò diciamo nel corso di questa presentazione questo tema che è importantissimo quindi teniamo sempre presente la coerenza del progetto parliamo delle spese allora già a partire dalle spese ammissibili e non ammissibili ci sono delle novità rispetto a qualcuno magari si ricorda gli avvisi che sono stati promossi nelle scorse annualità troverete dei punti diciamo di novità già anche anche in questa parte dell'avviso ovviamente le spese dovranno essere direttamente collegate chiaramente funzionali alla realizzazione del programma di attività riferite all'arco temporale della realizzazione del programma dovranno essere sostenute poi in fase di rendicontazione da documenti tracciabili quindi dovranno essere documentate tracciabili con documenti che siano fiscalmente validi e le spese si intendono al netto di bolli imposte e qualsiasi altro onere e commissione ci teniamo a parlare di questo tema perché spesso ci siamo trovati a fare delle richieste di integrazioni per i bolli i bolli non possono o qualsiasi altra imposta non può essere messa a carico della regione quindi se avete per esempio delle note di prestazione occasionale uno devono essere riportare sempre la marca da bollo due la marca da bollo però non può essere caricata diciamo nel elenco delle spese quindi deve essere quella prestazione occasionale al netto della marca da bollo l'IV ovviamente dipende da voi dal vostro regime fiscale se l'IV è un costo oppure no quindi a seconda del vostro regime fiscale dichiarerete appunto con una dichiarazione del legale rappresentante l'indiettariabilità dell'IVA e dovrete anche indicare la norma di riferimento troverete nell'avviso l'elenco delle spese poi non ammissibili va da sé che tutte le spese che non sono previste all'interno di questo elenco sarebbero da ritenersi ammissibili ovviamente perché uso il condizionale sarebbero perché le spese come dicevamo prima devono essere chiaramente legate a quello che è il programma di attività cioè ci aspettiamo le spese ammissibili possono essere solo spese che riguardano il programma di attività non altre attività le spese non ammissibili invece in generale sono quelle relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili alla guardiania ordinaria questo cosa significa che nel caso in cui ci siano delle attività ulteriori previste dal programma che riguardano aperture straordinarie e richiedono una guardiania straordinaria in quel caso la guardiania straordinaria è ammissibile le utenze va da sé le assicurazioni relative agli immobili e anche l'acquisto per le spese di beni strumentali durevoli e per qualsiasi spesa considerata di investimento tranne che per quanto riguarda la linea di intervento numero due per le quali per la quale è prevista invece la possibilità di fare questo tipo di spese fino ad un valore massimo di 1500 euro anche su questo tema approfondiremo un attimo successivamente non è ammissibile ovviamente la quantificazione economica del lavoro volontario erogazioni liberali contributi economici o quote associative e tutte quelle che sono interessi commissioni bancarie eccetera altri oneri focalizziamoci un attimo su quel tema che abbiamo visto prima le spese come dicevo di investimento allora su questo tema abbiamo avuto diversi quesiti diverse segnalazioni qualcuno ci ha chiesto ma per esempio se dobbiamo fare acquistare qualcosa che serve per per esempio per un nuovo allestimento queste sono spese di investimento non sono ammissibili la risposta è no allora le spese di investimento che siano strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività sono ammissibili però devono essere funzionali appunto al programma di attività triennale che viene presentato quindi negli esempi che abbiamo portato qui per esempio si vuole predisporre un nuovo allestimento si necessita l'acquisto di nuovi espositori o di materiale di esposizione quella tipologia di spesa è comunque sempre ammissibile un altro esempio ci sono degli incontri all'aperto un programma di attività con incontri all'aperto abbiamo bisogno di un impianto di amplificazione o di altra tipologia di materiale propedeutica alla realizzazione di questi incontri quella tipologia di spese è ammissibile la stessa cosa vale per spese di tipo digitale cioè se stiamo prevedendo di ampliare erogare nuovi servizi ampliare la nostra attività nell'ambito digitale anche l'acquisto di strumentazioni digitali per servizi diciamo di museo digitale sono sempre comunque ammissibili quello che non è ammissibile è l'acquisto di strumentazione benistrumentali eccetera che non siano correlate al programma di attività tranne nel caso in cui come vedevamo prima si tratti della seconda linea di intervento fino ad un massimo di 1500 euro come avrete visto ci sono anche un'altra grande novità è quella di avere previsto diciamo dei tetti dei massimali di spesa per alcune tipologie di spesa che negli scorsi avvisi o non erano ammissibili o non erano state chiaramente diciamo indicate la prima grande novità è quella per le spese di personale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili allora quando parliamo di personale stiamo parlando sempre e comunque del solo personale dedicato ai servizi museali non stiamo parlando in questo caso di personale amministrativo o personale che in un qualche modo faccia si occupi dal punto di vista amministrativo del progetto perché questa seconda tipologia di spese possono essere eventualmente previste nelle spese diciamo di carattere generale quindi carattere generale stiamo parlando materiale di consumo cancelleria simili spese postali pulizie ovviamente straordinarie guardiania straordinaria commercialista consulenti collaborazioni in te esterne che riguardino comunque la gestione del progetto lì siamo nell'ambito di un massimo del 10% delle spese ammissibili l'altra tipologia di spese ammissibili che abbiamo individuato con un massimale è quella per l'acquisto di spazi pubblicitari ovviamente anche qui gli spazi pubblicitari acquistati devono essere riferibili alle attività previste dal programma eventi previsti dal programma anche in questo caso nella misura massima del 10% come avrete visto con questo nuovo avviso chiediamo di compilare insieme all'allegato mi sembra 3 che è quello nel quale verrà presentato il programma anche questo allegato 5 che riguarda in modo specifico il piano dei costi del triennio vi chiediamo di compilare questo file anche in Excel per facilitare ovviamente la analisi diciamo del bilancio del programma triennale e in modo particolare non ci sono grosse novità diciamo nella prima parte che è abbastanza simile a quella che già conoscevate almeno che già conosceva chi ha partecipato alle scorse edizioni si chiede di inserire gli obiettivi ovviamente devono fare riferimento ai tre obiettivi previsti dal programma triennale delle azioni prioritarie che sono nuovi servizi allestimenti dotazioni tecnologiche oppure servizi informativi catalogazione conservazione restauro formazione oppure progetti attività di valorizzazione di beni raccolte istituti culturali gli obiettivi che inserite nella colonna degli obiettivi devono fare ovviamente riferimento ad uno o più di questi obiettivi le azioni devono fare riferimento agli obiettivi che andate inserire e vi chiediamo di inserire le voci di spesa quindi cosa prevedete di spendere per ciascun obiettivo e per ciascun azione suddiviso nel triennio il totale di questa prima parte della tabella che è il totale costi programma sarà la somma delle voci di spesa inserite nei tre obiettivi e l'ultima riga sarà un di cui cioè del totale dei costi del programma sempre nell'ambito delle dimensioni minime e massime previste dall'avviso il contributo richiesto alla regione è tot quindi un di cui del totale costi del programma la seconda parte di questa tabella è a solo scopo diciamo ricognitivo vi chiediamo in questa seconda parte di inserire in maniera aggregata tutte le spese che fanno riferimento alle tre tipologie di spesa che prevedono diciamo dei massimali per darci modo di verificare il rispetto dei massimali stessi quindi ritorno alla slide precedente il totale costi programma deve essere complessivo e comprendere già anche le tre voci di spesa che riguardano personale spese generali e spese per pubblicità nella sezione successiva del allegato 5 dovrete inserire quelle aggregandole quelle tre tipologie di spesa ma non andranno ad influire sul totale che è nella prima parte della tabella qui vi comunico che era stato fatto c'era un refuso nell'allegato che era stato caricato online sul nostro sito al link che ha presentato prima Silvia è stato corretto due giorni fa quindi chi avesse scaricato l'allegato 5 più di due giorni fa può deve andarlo a scaricare nuovamente perché è stato caricato adesso il file corretto qui ovviamente tutto questo deve essere fatto come dicevo prima all'interno dei massimali e dei minimali previsti bene passiamo a quella che invece sono gli aspetti di rendicontazione siamo al punto 11 dell'avviso allora la rendicontazione delle spese deve essere presentata ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della realizzazione delle attività cosa vuol dire le attività del 2024 andranno presentate entro il 31 gennaio 25 quelle del 25 entro il 31 gennaio 26 e via discorrendo cosa di cosa si compone la rendicontazione delle spese si compone innanzitutto di una richiesta di erogazione che sarà da redigere sulla base di un modello non ancora disponibile ma che sarà messo a disposizione tramite il nostro sito e probabilmente anche via mail a tutti i soggetti che si convenzioneranno con noi diciamo nelle settimane precedenti come deve essere presentata la rendicontazione così come tutti gli altri documenti la rendicontazione deve essere presentata correttamente compilata cioè deve essere tutti i modelli la modulistica prevista deve essere compilata interamente in ciascuna sua parte correttamente sottoscritta digitalmente e corredata appunto degli allegati necessari voglio fare una piccola parentesi perché anche la domanda di contributo per questo bando per questo avviso è previsto che la domanda di contributo e gli allegati siano firmati digitalmente quindi ci aspettiamo che tutta la documentazione inerente al bando inerente diciamo ai progetti sia presentata con la sottoscrizione digitale che ovviamente deve essere fatta ai sensi di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale in formato diciamo CADES o PADES voglio fare una parentesi adesso che stiamo parlando di firme faccio un salto avanti e voglio parlare un attimo del modello della ritenuta d'acconto famosissima ritenuta d'acconto IRPEF IRES chi ha avuto una convenzione triennale già negli anni passati sa che spesso e volentieri abbiamo chiesto più e più volte di presentare questo documento perché non è mai corretto allora ci tengo a fare questa piccola digressione sulla firma e sulla presentazione di questo documento perché questo documento che a tanti sembrerà diciamo inutile invece è un documento essenziale che noi dobbiamo caricare negli applicativi di contabilità regionale senza il quale o in presenza del quale ma in forma diciamo errata non si può procedere al pagamento fisico all'erogazione del contributo quindi è come dire un documento che ferma blocca il procedimento di liquidazione e ci mette nelle condizioni di andare a fare la rincorsa alla correzione di eventuali errori questo documento innanzitutto viene messo a disposizione annualmente dalla regione questo significa che ogni anno possono intervenire delle modifiche sul modello che viene messo a disposizione per cui ogni anno bisogna utilizzare quello che viene caricato sul nostro sito o che viene trasmesso via mail inoltre questo documento può essere firmato sia digitalmente che con firma autografa però la firma autografa è una firma scansionata cioè la firma digitalizzata è una firma che deve essere apposta sul documento stampato e immediatamente scansionata le firme che sono create con i programmi diciamo le app per esempio per creare dei pdf quindi firmo faccio una copia di questa firma e me la tengo in un programma da qualche parte poi l'applico sui documenti che creo digitalmente non è una firma che ha valore legale cioè una sentenza della corte di cassazione per cui fate grande attenzione a questa cosa quando sottoscrivete dei documenti se firmate con quella modalità la firma che presentate non ha nessun tipo di valore infatti anche noi non possiamo accettarla spesso e volentieri abbiamo trovato sui moduli su questa tipologia di moduli quella firma ed è per questo che vi abbiamo chiesto più e più volte di rifirmare inoltre il modulo deve sempre riportare l'atto di concessione cioè il numero e la data del provvedimento col quale noi andiamo a fare l'impegno di spesa che ovviamente vi trasmettiamo e però in alcuni casi diciamo poi ovviamente per qualche motivo non viene riportato correttamente e per questo è importante utilizzare il modulo che noi mettiamo a disposizione altrimenti ricontinuiamo continuamente a chiedervi l'aggiornamento fino a che non presentate il modulo corretto proprio perché è bloccante rispetto alla liquidazione bene faccio di nuovo un passo indietro per andare a parlare appunto della liquidazione e di cosa si compone di una relazione tecnico-scientifica che deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate nell'anno di riferimento ogni anno come dicevo prima ci deve essere coerenza devo raccontare descrivere quello che è stato fatto e deve essere ovviamente coerente con il programma presentato inoltre ci deve essere una evidente chiara relazione fra quelle che sono le attività che ho svolto e quindi che vado a descrivere e di costi per i quali invece chiedo il rimborso anche qui voglio fare un punto un esempio se ci sono delle spese relative a quelli che sono non so degli eventi ho fatto un ciclo di eventi e ho previsto delle spese ho rendito contatto delle spese relative a quegli eventi nella relazione che contiene l'elenco di tutti i documenti io devo ritrovare una correlazione anche temporale cioè in alcuni casi abbiamo trovato delle spese fatte dei giustificativi di spesa che sono stati emessi mesi e mesi dopo e non c'era una indicazione chiara che quei giustificativi di spesa riguardavano erano magari stati fatti successivamente ma riguardavano l'attività fatta mesi prima ci deve essere in quei casi deve essere riportato nella relazione tecnico-scientifica o nella relazione di rendicontazione comunque quello che è la correlazione fra quei giustificativi di spesa e la tipologia di attività che sto rendicontando punto primo punto secondo ovviamente le attività dell'anno di riferimento devono essere il più possibile coerenti con quello che è il programma presentato è chiaro che se stiamo parlando dell'annualità in corso forse è un po' più semplice andare a presentare un programma di attività già molto dettagliato molto preciso le annualità successive sarà magari più difficile quindi ovviamente ci possono essere delle piccole discrepanze delle piccole differenze o diciamo anche dei passaggi fra un'attività e l'altra non ci può essere però come è stato detto anche prima una variazione sostanziale del programma e del progetto cioè il programma presentato deve in un qualche modo rimanere coerente con quelle che poi sono le attività svolte effettivamente nel caso in cui ci dovessero essere dovessero emergere invece delle problematiche in tal senso è necessario farle emergere prima della rendicontazione quindi è necessario comunicare al nostro settore eventuali difficoltà nella realizzazione del programma presentato in maniera preventiva e tempestiva ovviamente quindi relazione tecnico-scientifica elenco delle spese l'elenco delle spese deve riportare l'elenco di tutti i documenti di spesa previsti nell'annualità di riferimento con numero data di emissione descrizione analitica ragione sociale dell'intestatario e del destinatario e ovviamente va da sé l'importo della spesa allora anche in questo caso l'altra grande preghiera abbiamo messo a disposizione anche un file excel per farlo magari probabilmente il rendicontazione lo approfondiremo lo renderemo ancora più puntuale è importante che le somme siano coerenti fra di loro abbiamo trovato somme cioè completamente sballate rispetto a quelli che sono gli importi previsti da ogni diciamo sezione del file di rendiconto mi raccomando le somme da quest'anno l'altra grande novità è quella che ci aspettiamo anche di trovare diciamo che queste spese devono essere quitanzate cioè la regione paga rendiconto per cui paghiamo spese che sono già state effettivamente realizzate non spese da realizzarsi della dichiarazione di ritenuta da conto abbiamo già parlato solo dal 2025 e solo per la linea 1 ci aspettiamo di trovare a rendicontazione anche il bilancio preventivo ovviamente dell'ente convenzionato sappiamo che in alcuni casi ci può essere una incompatibilità fra questa data del 31 gennaio e il momento in cui viene licenziato il bilancio per cui nel caso in cui non sia disponibile la data del 31 gennaio lo direte nella relazione lo verrà in un qualche modo reso esplicito e lo stesso comunque andrà trasmesso entro il 30 giugno non credo ci sia bisogno di dire ma forse lo dico lo stesso che tutte queste dichiarazioni sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e quindi come dire sono fatte sotto la responsabilità del dichiarante allora del file che appunto il rendiconto come come avete trovato questo legato a 5 piano dei costi ci sarà appunto messo a disposizione anche un file excel per la rendicontazione ovviamente con le stesse medesime caratteristiche sì sulle spese di personale dedicato ai servizi museali troverete sempre nel punto 11.2 dell'avviso una specifica verrà chiesto nel caso in cui sia caricata una parte della rendicontazione quindi una parte delle spese rispetto al personale di allegare una dichiarazione formale con la quale questo personale viene assegnato al progetto e dobbiamo trovare qualcosa che ci faccia capire il perché è stata assegnata una prevista diciamo una particolare spesa per quell'unità di personale rispetto a quelle che sono le attività che è svolta nel progetto quindi attività tempo utilizzato ore dedicate mensilmente e correlate ovviamente al costo orario ci aspettiamo di trovare questa dichiarazione ovviamente sarà da caricare in rendicontazione periodo di elegibilità i documenti di spesa cioè le spese vanno fatte nell'anno di riferimento quindi tutte le spese devono essere riferite all'anno di realizzazione dell'attività i giustificativi possono essere datati ovvero emessi fra il primo gennaio dell'anno di riferimento e il 31 gennaio dell'anno successivo questo ovviamente per motivazioni che sapete soprattutto nel caso le spese le attività diciamo siano realizzate effettivamente negli ultime settimane dell'anno l'altra grande novità è che da quest'anno tutti i giustificativi di spese dovranno riportare il CUP cioè il codice unico di progetto previsto dalla normativa vigente che verrà assunto dal settore patrimonio culturale e vi verrà comunicato nel momento in cui andremo a sottoscrivere le convenzioni quindi tutti i soggetti convenzionati che parteciperanno al bando faranno tutto quell'iter di appunto istruttoria che veniva descritto prima alla fine del quale ci sarà la stipula della convenzione le convenzioni riporteranno già questo codice alfanumerico CUP che dovrà poi essere riportato in tutta la documentazione di spesa per cui ai fornitori dovrà essere richiesto di andare ad apporre il CUP sui giustificativi di spesa come avverrà diciamo l'istruttoria di rendicontazione esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni ovviamente più la documentazione caricata è corretta meno integrazioni vi chiediamo quindi più veloce sarà l'iter identificazione delle spese ammissibili e non ammissibili eventuale rideterminazione del contributo che spiegherò fra un attimo nel caso in cui venga fatta una richiesta di integrazione il tempo massimo per rispondere alla richiesta di integrazione è sempre di 10 giorni e altra novità da quest'anno procederemo anche a verificare la situazione di regolarità contributiva nei confronti di IMS e Inail con il DURC bene l'altra grande novità su cui mi voglio soffermare è che da quest'anno sono previste delle soglie minime di spesa in base alle quali può essere o meno rideterminato il contributo allora qua siamo nell'ambito diciamo di ciascuna annualità questo cosa significa è ovvio che la convenzione avrà una durata triennale prevederà un contributo complessivo triennale che sarà suddiviso sulle tre annualità di realizzazione del progetto la rendicontazione ovviamente verrà fatta su ciascuna annualità quindi quello che sto dicendo come dire si replicherà per tre volte fino per tutta la durata diciamo della convenzione per cui per ciascuna annualità ciascun soggetto convenzionato avrà un costo complessivo diciamo ammessibile per cui il costo dell'intervento in quell'annualità sulla base del quale verrà calcolato nella misura massima dell'ottanta per cento il contributo concesso quindi dovete ricordare sempre questo rapporto fra costo ammesso dell'intervento dell'annualità e contributo concesso ogni anno occorre rendicontare una spesa pari a quello che è il costo ammissibile quindi la spesa ammissibile preventivata su ciascuna annualità per venire incontro diciamo a tutte le esigenze di realizzazione del programma anche per quanto si diceva prima in alcuni casi potrebbe essere magari più complicato andare a prevedere un programma di annualità soprattutto per l'annualità successiva quella in corso se questa spesa annuale è inferiore diciamo rispetto alla spesa prevista ma questa diminuzione rimane nell'ambito del 20% rispetto alla spesa prevista il contributo verrà confermato nella sua interezza quindi l'erogazione del contributo rimarrà pari al 100% del contributo concesso nel caso in cui questa riduzione invece dovesse situarsi fra il 20% delle spese previste e il 40% delle spese previste anche il contributo verrà ridotto della differenza che c'è del 20% oltre invece il 40% della di spesa diciamo inferiore alla spesa prevista c'è la revoca del contributo quindi entro il 20% il contributo rimarrà al 100% fra il 20 e 40 sarà ridotto di una percentuale che cede la soglia del 20% oltre il 40% c'è la revoca del contributo questo dovrebbe come dire orientare ovviamente non solo è un aspetto di rendicontazione fondamentale ma dovrebbe orientare in un qualche modo la preparazione del progetto cioè in questo momento dovrebbe orientare quella che è la previsione dei programmi di attività annuali perché è essenziale che ci sia anche una coerenza fra quella che è la reale capacità di realizzazione del progetto di attuazione del progetto e quelle che sono le previsioni che si fanno nel momento in cui si va a compilare il progetto questo è molto importante essenziale perché permette di non andare a rideterminare o ancora peggio a revocare il contributo sulle annualità poi di realizzazione c'è un altro elemento da tenere presente quando si parla di questo punto che è quello delle soglie minime di spesa bisogna sempre ricordare che oltre alle soglie minime di spesa che sono quelle previste dal punto 5.2 dell'avviso cioè minimo 10.000 euro per la linea 1 e minimo 3.000 euro per la linea 2 è prevista la revoca del contributo non si può spendere annualmente una cifra inferiore a quella prevista dalle soglie minime concludo ricordando che è previsto come viene raccontato nel punto 14 dell'avviso che la regione possa procedere a verifiche di tipo amministrativo contabile quindi tutta la documentazione progettuale tutta ma in particolar modo la documentazione di spesa della quale voi presenterete appunto un elenco annualmente deve essere conservata per almeno 5 anni e tutti i soggetti convenzionati 5 anni anche oltre la scadenza della convenzione ovviamente deve essere conservata messa a disposizione di eventuali controlli che venissero fatti dalla regione successivamente alla realizzazione delle attività stesse io ho finito vi ringrazio sono a disposizione se ci sono delle domande bene grazie anche a te Chiara sei stata molto chiara di nome di fatto comunque anche il webinar è registrato non so se avete pensato anche di mettere a disposizione le slide che credo siano ancora più efficaci per fissare i punti precisi ci sono parecchie domande che si possono distribuire la prima che vorrei suggerire a Chiara di rispondere è una che è arrivata mi senti Chiara? Sì è una che è arrivata via mail e riguarda appunto il cup delle spese fatte prima della concessione sì allora è evidente che nel caso in cui le spese siano fatte prima della assunzione del cup queste non potranno riportare il cup stesso qui c'è anche una indicazione da parte del MEF ormai consolidata in tutti questi casi si fa una dichiarazione cioè in rendicontazione ma queste sono indicazioni che poi daremo anche successivamente verrà indicato con una dichiarazione del legale rappresentante o comunque del soggetto sottoscrivente che tutte quelle spese fanno riferimento a quel cup quindi sono riconducibili a quel cup è una prassi diciamo ormai consolidata ovviamente per l'annualità 2024 dato che noi prevediamo la possibilità di spendere sostanzialmente dal primo gennaio ci aspettiamo che sia comunque insomma abbastanza ampia questa casistica esatto sì sarà una dichiarazione una disan chiaramente dichiarazione sostitutiva di atto notorio come ormai succede anche ormai come dicevi tu è acclarato da una circolare MES in riferimento al primo quesito di Gianmarco Passerini io ritengo che Chiara abbia già risposto nelle sue spiegazioni relativamente alle spese generali questa invece è una domanda che chiede se sui tre anni bisogna tenersi al medesimo intervento o se sia necessario o se sia possibile farne diversi per esempio ristrutturazione in un anno catalogazione in un altro ecco adesso questo dico solo che le ristrutturazioni non sono previste come è già stato detto sì allora chiaramente questo avviso ha come finalità quello di ampliare l'organizzazione museale dei servizi museali anche attraverso questi soggetti non pubblici quindi quello che si presenta non è un intervento un progetto specifico ma un programma di attività che ha una visione degli obiettivi e che prevede un'articolazione triennale quindi è evidente che si immagina è plausibile e legittimo che ci siano ambiti di intervento che si intersecano e possano comprendere aspetti più legati alla gestione manutenzione delle collezioni e aspetti legati invece a un miglioramento della qualità dell'offerta al pubblico comprendendo progetti vari quindi noi dobbiamo aver chiaro che quello che si presenta è un programma triennale articolato in tre annualità siamo consapevoli che l'articolazione dettagliata riguarderà soprattutto la prima annualità ma una definizione assolutamente coerente del programma triennale questo è richiesto quindi è evidente che ci possono essere temi diversi nel programma ecco se parliamo di ristrutturazioni anche lì come accennava Barbara facciamo attenzione perché possono arrivare fino a un certo punto ma non possono essere lavori sulla struttura ecco possono essere lavori di adeguamento allestitivo attrezzature legate contenuto ecco non ci aspettiamo spese in conto capitale per dirla non ci aspettiamo bene il prossimo quesito riguarda una situazione cioè se lo stesso ente possa fare richiesta per più musei eh sì lo stiamo leggendo e qui ci va una riflessione allora è chiaro che l'ampliamento dell'organizzazione museale fa riferimento ai luoghi della cultura quindi no l'oggetto il destinatario è quel museo localizzato in un territorio quindi certo che ci può essere un soggetto che è proprietario di più come in questo caso no il quesito è posto dall'architetto Manuel Ferrari ti saluto e magari approfondiamo perché approfondiamolo in che termini perché se parliamo peraltro appunto abbiamo il museo della cattedrale di Piacenza che è un museo consolidato strutturato e adesso la collezione Mazzolini a Bobbio quindi potrebbe essere un programma che comunque per come è concepito il nostro avviso deve avere un fulcro un capofila diciamo un oggetto prevalente nel museo capofila e poter dare adito nella triennalità a un accompagnamento uno sviluppo un lancio di altri sedi però se siete d'accordo io questo farei un approfondimento specifico scusa Cristina se posso aggiungere una cosa volevo sottolineare che quello che non è possibile fare cioè accedere sia alla convenzione con i musei quindi l'avviso diciamo di cui stiamo parlando oggi che la convenzione con il sistema bibliotecario quindi l'avviso gemello che è diciamo i medesimi termini di apertura perché anche questa domanda ci è arrivata più volte io risposto anche già telefonicamente a diversi quesiti in merito non è possibile cioè bisogna scegliere se presentare la convenzione e la richiesta di convenzione su un avviso o sull'altro hai fatto bene a chiarirlo bisogna scegliere qual è la tipologia prevalente del contesto sia museale o sia bibliotecario o archivistico benissimo altro quesito che si riconduce al tema generale di chi non possiede i requisiti al momento della domanda in particolare Gianmarco Passerini dall'osservatorio astronomico che dice che loro hanno 40 giorni di apertura e quindi per loro è difficile arrivare a 60 qui è un tema dedicato ne siamo consapevoli però il concetto che guida è quello di una garanzia di una soglia accettabile di fruizione pubblica che abbiamo fissato come soglia minima 60 giornate a seguito dell'approvazione della legge dedicata al sostegno e alla valorizzazione delle case delle persone illustri che rappresentano un patrimonio diciamo non completamente interamente allineato ai musei ma potrebbero essere dei contesti con caratteristiche sia di proprietà che di gestione diverse però la soglia minima che stiamo testando e a cui stanno rispondendo ormai siamo a due annualità di avvisi fatti è quella dei 60 giorni che personalmente ritengo che non possa essere elusa è un minimo possono essere 60 giornate anche non continuative evidentemente distribuite nel corso dell'anno solare ma documentabili come tali se consiglio capire se possano essere conteggiate delle giornate di iniziative fatte in collaborazione con altre realtà con una collaborazione anche parziale ma che possa documentare la presenza dell'istituzione però sulle 60 giornate vorremmo tenere fermo la soglia altro quesito di Laura Pancaldi chiede se un ente gestore privato di un museo pubblico accreditato possa presentare domanda se il museo è di appartenenza pubblica la legge regionale 18 permette di accedere a sostegni a contributi con i bandi e gli avvisi dei piani per i soggetti pubblici quindi non credo che sia possibile ammettere soprattutto se il soggetto gestore di un museo pubblico quindi altro quesito che si riconduce sempre alla questione dei requisiti primari necessari è quella del direttore cioè un ente se possa richiedere il contributo se non abbia il direttore o conservazione o se possa fare un incarico esterno in questo caso sì allora l'importante è che sia documentabile e documentata la presenza di una figura con una competenza assimilabile a quella almeno di un conservatore o comunque di un responsabile delle collezioni quindi anche di un direttore non per forza non per forza per noi deve essere una competenza stabilmente acquisita con contratto a tempo indeterminato o inquadrata nell'organico dell'ente pur che sia documentabile un incarico una nota insomma una forma di accordo che individua la figura e la riconosce con quella titolarità Chiara una specifica sulle cosa significa acquitanze dei pagamenti movimentazione bancaria cioè avere effettivamente l'elenco la richiesta è quella di conservare assieme alle fatture appunto ai fini di eventuali controlli quindi assieme alla documentazione di spesa conservare una stampa quello che è della movimentazione dell'effettivo pagamento Un altro quesito dalla Galleria d'Arte Ricci Oddi una specificazione quando si parla di programma si intende il programma delle attività per le quali si va a chiedere il finanziamento o il programma generale? Un po' abbiamo già risposto cioè intendiamo un programma triennale che dia conto chiaramente della visione degli obiettivi che il museo si pone di sviluppare e di perseguire nell'arco della triennalità con dei tematismi prioritari su cui intende lavorare e presenta una serie di attività quindi diciamo che è chiaro ci immaginiamo che il programma che si presenta sarà quello su cui il museo intende lavorare che sia più leggibile nelle attività delle varie annualità ora un'altra domanda per Chiara chiede se il finanziamento risulta inferiore alla spesa del progetto presentato se è prevista la presentazione di una rimodulazione della spesa complessiva del progetto tenendo comunque conto delle soglie minime non ho capito esattamente la domanda se la domanda è nel caso in cui si presenti un progetto diciamo che vale 100 sparo e la regione riconosca magari non l'80 ma il 60 se viene rimodulata la spesa ammissibile sulla base della diciamo rimodulazione della soglia di contributo assegnata dalla regione se la domanda è questa la risposta è no la regione non può rimodulare il progetto che voi avete presentato sulla base di quelle che sono diciamo le disponibilità contributiva del caso quindi la spesa presentata ovviamente nella parte ritenuta ammissibile perché se si presenta una spesa che non è fra le spese previste chiaramente sarà ritenuta non ammissibile quindi tagliata diciamo così già in fase di di approvazione della graduatoria ma quella spesa che sarà scritta diciamo nella graduatoria a fianco del contributo concesso sarà l'obiettivo da raggiungere e per questo che appunto prima dicevo nel momento in cui si presenta e si fa un programma di attività deve essere compatibile con la capacità di realizzazione sempre per te Chiara una specifica sul cup sulle fatture dice per il 24 c'è una deregata al proposito essendo già in luglio o dobbiamo attendere l'istruttoria l'ho detto prima sì infatti va bene no penso fino a che non ci sarà il cup è impossibile farlo riportarlo sulle fatture se sarà fatta questa dichiarazione poi comunque daremo dettagli più precisi insomma quando però dal momento in cui il cup viene preso allora sì ci aspettiamo che sia riportato su tutti i giustificativi di spesa l'ultimo quesito riguarda quando sarà comunicato l'esito del bando allora chiude il termine per la presentazione delle proposte è il 15 luglio quindi devono arrivare in PEC quindi vanno raccolte vanno ben raccolte e verificata la completezza poi si parte con abbiamo già un calendario di attività di lavori chiaramente per il gruppo di lavoro che comunque deve essere nominato come il nucleo di valutazione con una determinazione del direttore generale abbiamo tempo 90 giorni come procedimento amministrativo è evidente che annetto del fatto che a turno faremo anche qualche settimana di ferie faremo di tutto per essere più tempestivi possibili però sicuramente arriveremo a settembre mi permetto di anticiparlo perché come se frequentate il nostro sito vedete che abbiamo pubblicato un discreto numero di avvisi stiamo procedendo anche con la pubblicazione degli esiti di quelli appunto che abbiamo fatto uscire prima lavoriamo senza sosta e anche colgo l'occasione per ringraziare oltre a Silvia Chiara Barbara di nuovo Marco Ambra anche Stefania Galati tutti quelli nostri che sono collegati perché è un lavoro veramente intenso siamo consapevoli che l'annualità del 24 dovranno avvalersi di tutte quelle diciamo forme di vendicontazione che andranno a riconnettere ricollegare soprattutto il discorso CUP però voi siete attivi e state agendo si tratta di diciamo formalizzare quello che è la vostra attività nel quadro triennale e poi ovviamente il 24 è avviato sì possiamo dire che i termini del procedimento sono 90 giorni dal 15 luglio quindi speriamo prima ma certo io volevo solo rettificare una una cosa che ho detto prima nelle slide era indicato che era prevista anche la firma analogica per l'invio della della domanda chiedo scusa è un errore è prevista soltanto la firma digitale adesso ho aggiornato le slide saranno pubblicate in maniera corretta ma l'ho trovata comunque scritto anche esplicitato sul bando sì ci sono altre domande no ecco no allora mi aggancio quanto a questa precisazione di Silvia e a quanto vi avevo anticipato di tanti cambiamenti novità attenzioni che è anche passato in rassegna chiara dando tutte le spiegazioni ecco non pensate che da parte nostra c'è questa volontà di inferire su questi aspetti perché lungi dal nostro i desideri tutto ciò ma è quello che dicevo all'inizio dobbiamo tutti abituarci a trattare questi strumenti di erogazione di contributi di sostegni fondamentali per i servizi culturali in modo da essere davvero pronti e capaci di accedere anche a fondi europei in particolare perché questo avviene e questo è importante che lo coltiviamo consapevolmente tanto più che sul rapporto con il digitale anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione in generale il rapporto cittadino e pubblica amministrazione noi abbiamo deciso di sdoganare esclusivamente la firma digitale perché ormai speed e quant'altro ci siamo come cittadini e ancora persone singole e quindi il passo va fatto e crediamo che questa nuova triennalità debba portarci consapevolmente a metabolizzare questi cambiamenti a familiarizzare con queste nuove forme e poi come in altre esperienze una volta che ci siamo abituati sarà tutto più semplice bene se non ci sono altre richieste di chiarimenti vi ringraziamo per essere stati con noi fino alla fine speriamo di avere almeno fornito una presentazione di base per portarvi a compimento dell'elaborazione delle vostre proposte e vi auguriamo buon lavoro buon estate e vi abbracciamo tutti e tutte grazie a presto buon lavoro arrivederci arrivederci a presto